Buonasera, siamo qui al concerto a Piazza Coppola. Siamo qui con la signora Annarella, volevamo fare un commento sulla questione Berlusconi. Silvio non va a votare per il referendum, tu che dici Annarella? Sti cazzo, basta che ce vado io e tutto il popolo italiano, perché se ne deve andare, è l'unedì a mezzanotte, c'è piena sincope quando sta capendo. Grazie Annarella per il commento, dammi un bacetto. Grazie, buonasera, continuate a seguirci. Andate a votare domani mattina, pure l'unedì se non avete tempo domani, se volete andare male, l'unedì mattina andate a votare, che sta preparando il pezzo. Non mi fate questi dispetti a me, sa che io sono andata rossa e mano rossa.